Terminata l'estate arriva il tempo di bilancia anche per quanto riguarda il pericolo incendi che nei mesi più caldi minaccia i boschi della nostra provincia. Il bilancio è sicuramente positivo, si registra infatti un solo principio di incendio spento sul nascere. Corpo forestale dello Stato, Parco Nazionale, Regione e Vigili del Fuoco, volontari, si sono coordinati e impegnati per tutto il periodo estivo per evitare ogni potenziale causa di innesco. Le pattuglie di pronto intervento hanno controllato dalla mattinata alla sera i confini del parco, allertato e informato ogni persona incontrata, fatto spegnere e sanzionato le accensioni maldestre. Moltissimi cittadini hanno chiesto preventivamente se si potessero bruciare le ramaglie e si sono attenuti al divieto. La vigilanza attiva è costante, il coordinamento delle azioni, la diffusione delle informazioni e l'attenzione della popolazione hanno impedito, nonostante la predisposizione meteorologica, lo sviluppo degli incendi boschivi e salvaguardato l'integrità del paesaggio e la sicurezza pubblica.